Sala consigliare del comune di Sansevero, il consigliere comunale del PD alla Santa Spada ci dirà il perché di questo strappo che è accaduto all'interno del partito in merito alla verifica che si è conclusa venerdì. Sì, grazie. Per esempio perché una persona ha preso una cinquantina di voti in più rispetto all'assessore Socola per l'appunto. Al giorno d'oggi io penso che i cittadini siano stanchi di una politica di questo genere che appunto si affida solo al numero di voti. Noi tutti immagino vogliamo una politica che sia all'altezza della situazione. Quindi se io ho un'ottima professionista nel ruolo di assessore non c'è alcun motivo per rimuoverla e invece questo è stato proprio fatto. Prima per quanto riguarda appunto il PD e poi questo atteggiamento è stato avvallato appunto dal sindaco Miglio. Motivo per cui appunto ci siamo allontanati da queste situazioni. Con il consigliere Pierluigi Marino, lui è uno del gruppo dei giovani che in questo momento erano nel PD e cercavano insieme ad Alessandra Spada, Valentina Stocola e Felice Carrabba, cercavano di dare una svolta un po' più giovanile per così dire, fermo restando la tradizione del PD in questo di oggi. E chiaramente nelle scelte determinate dalla verifica hanno influito alcune situazioni particolari tra cui quelle della federazione. Consigliere Marino? Beh sì, effettivamente è così come hai giustamente analizzato ed è la cosa che più ci dispiace perché in un partito è vero che si devono comunque seguire delle linee, però quando viene meno la meritocrazia di una persona che lavora, lavora non per se stessa, per il partito, ma in primis per la città e l'assessore Stocola penso abbia dimostrato con tutti i suoi obiettivi raggiunti di essere una persona valida, capace di dare quello che la città chiedeva sotto il punto di vista delle sue deleghe. Adesso trovarci in questa situazione, dico la verità, a me non è che mi è piaciuto tanto, non solo per una questione nostra, ma anche amministrativamente parlando, perché si è preferiti fare questo gioco di poltrone che non ha nulla di meritocrazia ma ha soltanto la prova muscolare di qualche voto preso in più, di qualche promessa fatta dalla federazione e non credo che questo possa portare da qualche parte, da un punto di vista politico, avere obiettivi buoni sia per il partito che per la città di Sansevero. Grazie